Buongiorno. Sono le 9. Abbiamo lasciato il parcheggio di Porto San Paolo. L'idea stamattina era di andare a fare un altro trekking verso le spiagge più belle di San Teodoro perché ad agosto è impossibile farle anche perché sono delle calette piccolissime, quindi si limpiano di gente, nonché ora secondo me siano vuote. L'unico problema è che il tempo fa veramente così. È molto nuvoloso quindi abbiamo paura che non renda poi, anche perché per arrivare la cala girvolo da dove dovremmo partire il parcheggio è a pagamento, costa la bellezza di 15 euro. Quindi pagare il parcheggio e poi non godere della bellezza non è che sia l'ideale. Quindi adesso Giorgia ha trovato un benzinaio che è tre giorni che lo cerca. Questo costa troppo, che di solito lo abbandoniamo quando costano troppo. Eh no ma bisogna vanno a mettere. Uno eh? 85. No 85. Proviamo ad arrivare là e vediamo se magari il cielo si apre. Nel caso poi vedremo. Ve lo bentime. Bene. Il punt parcheggioso è lì nel... cioè qui nel parcheggio. Perceremo 15 euro tutto il giorno o 2 euro l'ora, poi decidiamo quanto tornare. Sì adesso abbiamo un bigliettino. Potremmo anche dormire prima, vediamo quanto ci stiamo eccetera, comunque il cielo pare che si stia un po' a prendere, va bene adesso iniziamo a camminata, mi immagino che è felice anche oggi. Questa dovrebbe essere Kala Jirgolu, adesso cerchiamo di capire la stradina. per raggiungere la spiaggia dei Tori, perché il trekking inizia da lì in realtà, però abbiamo deciso di parcheggiare qua perché spiaggia dei Tori è un casino il parcheggio col camper come al solito. Pare che l'abbiamo trovato, pare. No, bisogna andare su delle rocce. Par A Tre inizio Grazie a tutti. Andiamo. 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 Abbiamo mollato la spiaggia. Abbiamo fatto tutto il sentiero. Nuovamente. Caldo. Fa caldo. Vero Giorgia? Si. Ci spostiamo da qua. In direzione di... No. 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 No.